L'asportazione di un tumore al seno lascia spesso dei segni evidenti non soltanto sul corpo ma anche nell'animo della donna che lo subisce ma grazie alla chirurgia ricostruttiva si riesce nei maggiori dei casi ad intervenire. Per parlare oggi di questo tema così delicato, così importante abbiamo invitato il professor Roy De Vita, medico, chirurgo, primario presso l'Istituto dei Tumori, Regina Elena e poi Elisabetta, una donna che ha combattuto la fase critica di questa malattia e vogliamo iniziare a parlare con lei. Grazie di aver citato questo invito, grazie di essere qui. Allora, Roy De Vita, professore con tantissima esperienza nel campo della chirurgia e la chirurgia ricostruttiva, quanto è importante poter prendere nuova vita con un intervento, con un suo intervento? È fondamentale, adesso dobbiamo pensare che una paziente che ha un tumore al seno viene colpito nel simbolo della femminilità che è il seno. Per cui il ricostruirlo significa non solo cercare di cancellare il ricordo della malattia, ma soprattutto quello di poter avere una vita di relazione normale, intendo dire quella di tutti i giorni, perché uno pensa sempre al mare, al costume da bagno, e al mare si va 15 giorni l'anno, 20 giorni l'anno, non è un problema, si può anche fare a meno di andare al mare, il problema è tutti i giorni, quando si va in bagno a fare la doccia e c'è lo specchio di fronte, quello è il dramma, perché vieni colpito in un aspetto che psicologicamente è devastante per una donna, quindi la chirurgia ricostruttiva è importantissima. Elisabetta, tu hai combattuto la fase più critica della malattia, perché appunto otto anni fa ti hanno diagnosticato un tumore al seno, perché tutti noi abbiamo avuto un momento nella vita in cui, in base anche alle informazioni che riceviamo, diciamo, oddio, ma può capitare anche a me, mi è successo, sento dei noduli, tu come hai reagito e come hai affrontato questa diagnosi? Allora, la mia storia è forse la storia di tante, tante donne hanno un seno, io avevo un seno abbondante, e ci trovavo dentro un po' di tutto, per cui fin da ragazzina sentivo i nodulini, le robine, e non si sa mai esattamente cosa sono, si comincia a fare i controlli, quando magari si comincia ad andare dal ginecologo, magari per avere un figlio, e poi diventano controlli annuali. In questi controlli annuali, un anno, hanno trovato qualcosa che dovevano togliere, era una cosa benigna, me l'hanno tolta, e mi hanno detto continuiamo a fare i controlli. Tra un controllo e l'altro, ho visto delle modificazioni. Sinceramente, quando sono andata dal senologo per farmi dire che cos'era, lo sapevo già, vuoi perché l'informazione ti dice che se alzi il braccio e vedi la pelle che cambia, capisci che c'è qualcosa che non va. Quindi l'avevo capito prima di andare a farmelo dire, e non avevo il coraggio di andarci. Quindi la tua prima reazione è stata di timore, perché siamo umane. Non riuscivo ad accettarlo, perché non era il momento giusto per me, in quel momento, affrontare anche la malattia. Avevo appena affrontato una separazione, per cui era difficile per me affrontare anche quello. Un figlio di 14 anni, con le difficoltà dei bambini, dei ragazzini. E quindi ho aspettato, ho aspettato, poi ho detto no, vado a farmi un bel regalo di compleanno, vado a farmi dire che cos'è. E per il mio compleanno mi hanno detto che avrei dovuto togliere il seno e fare una serie di chemioterapie. Posso fermarla un attimo? Certo. Per inserirmi in alcune cose che ha detto la signora, che se no passano un po' così. Allora, noi tutti ricordano, tutte le donne che ci stanno ascoltando, stanno pensando anche all'autopalpazione, fai la doccia, ti ascolti, senti tasti con la mano, il seno. Ecco, vi vorrei dire che se arriviamo a quel punto siamo un po' troppo avanti. La situazione è cambiata moltissimo in questi anni, per cui le diagnosi oggi di tumore al seno sono diagnosi strumentali. Cosa significa? Che tu vai a fare un'ecografia, una mammografia, una risonanza magnetica e scopri anche delle lesioni molto piccole, che sono assolutamente impalpabili. Tanto è vero che purtroppo la signora aveva un tumore già abbastanza grande, al punto tale che ha dovuto fare prima la chemioterapia e poi l'intervento chirurgico. Se riusciamo ad arrivare prima, qualche volta, a seconda del tipo di tumore, si può anche non fare la chemioterapia. Anche se il cancro è una brutta cosa, di cui abbiamo tutti tanto paura, ed è vero che ti cambia, ed è vero che è un lutto, è anche vero che ti dà la possibilità di rinascere. se riesci ad affrontare la cura in modo positivo e quindi avere magari a fianco un buon senologo, un buon chirurgo plastico, delle persone che ti seguono, accanto una famiglia che ti aiuta, perché anche il compagno è fondamentale nel percorso che tu fai. E a volte diciamo che ci sono tanti uomini che scompaiono come neve al sole. Esatto. Mentre invece è fondamentale. Professore, con che approccio lei si avvicina alle sue pazienti? Io cerco sempre di trasferire ai miei collaboratori che dietro una paziente c'è una storia. Io ricordo proprio a proposito di una trasmissione televisiva che registravo qualche anno fa, che c'era una paziente a cui stavamo facendo un intervento di ricostruzione e io ho scoperto guardando la puntata in televisione una cosa che non sapevo. Vale a dire, questa paziente aveva già il problema del tumore, quindi con tutto bambini piccoli, una mia assistente gli fa l'anamresi per fare la cartella clinica e chiede alla paziente se ha qualche cosa, qualche suo documento di risonanza magnetica e la signora risponde. Purtroppo ho perso tutto perché sai io sono dell'Aquila e nel terremoto la mia casa è andata distrutta. È stata una mazzata clamorosa perché queste cose noi in realtà non le sappiamo con la paziente, abbiamo un discorso, un colloquio tecnico rispetto al problema, alla malattia, al tipo di ricostruzione, ma c'è una vita dietro una persona, dietro tutti noi e allora il rispetto è la cosa più importante perché bisogna sempre ricordare che l'aspetto umano non bisogna mai dimenticarlo, mai lasciarlo in un cassetto. chi fa questo mestiere lo deve sempre tenere ben presente. E dopodiché è il piacere di poter ricostruire perché significa ridare. Il rapporto che io ho con le pazienti di ricostruttiva è un rapporto speciale perché evidentemente in qualche modo dai a queste pazienti un grande beneficio. confessore, ma in tutti i casi si può sempre intervenire o esistono casi in cui non è possibile? Si può sempre intervenire, abbiamo sempre una scappatoia da qualche parte, interventi sempre più complessi, sempre più difficili, diciamo che essenzialmente sono due strade, o con protesi o con tessuto autologo, autologo si via col proprio tessuto, in genere con la pancia o con la schiena. Quindi si trasferisce il grasso oppure il muscolo, il grasso, a seconda del tipo di tecniche di situazione. Poi, estrema razio, ci sono anche degli altri limbi che sono un po' più complessi, ma in qualche modo noi una pezza ce la mettiamo. Elisabetta, lei dopo la ricostruzione ha fatto un incontro molto importante, quello con Rita Molinaro, che è una tatuatrice esperta nella dermopigmentazione oncologica rispetto alle donne che hanno subito la malattia mammaria. Noi l'abbiamo incontrata e poi sentiamo la sua esperienza. La procedura della dermopigmentazione viene effettuata in un ambulatorio dedicato nella sede della Lilt, secondo un protocollo che è stato concordato con i sanitari dell'ospedale che garantisce di effettuare in tutta sicurezza per la paziente questa procedura. La Lilt ha scelto Rita Molinaro per le sue doti di umanità, di empatia e poi perché abbiamo visto le sue capacità tecnico-artistiche e davvero il prima e il dopo sono una differenza fondamentale per una paziente. La dermopigmentazione che pratichiamo nell'ambito dell'ambulatorio Lilt e di cui mi occupo da molti anni è una dermopigmentazione specializzata post-patologia, ossia è un tatuaggio a tutti gli effetti, solo che per espletarlo si usano delle attrezzature, delle metodologie completamente diverse. Si lavora in campo sterile, si lavora in sinergia con i medici, è un approccio completamente diverso. Pochi anni fa poteva sembrare sufficiente guarire, ho tolto il cancro e è finito. Ma non è questo, è tornare a fare la vita di prima, poter mettere un reggisino di pizzo, poter ritrovare la propria intimità, tante piccole cose che ti fanno sentire donna. Qui si spogliano non solo dai vestiti, ma si spogliano anche dalla corazza che devono avere per continuare la loro vita normale. e escono con un pezzettino in più, che non è un qualcosa in più che io ho dato loro, è un qualcosa in più che loro hanno ritrovato. Tutte mi dicono che ritornano a vivere, che chiudono il cerchio, che sono stata la ciliegina sulla torta, che finalmente è finita, che si volta a pagina. Elisabetta, sicuramente la sua vita è cambiata a causa della malattia, no? Però quanto è stato significativo alla ricostruzione e poi il lavoro di Rita per lei? Prima di arrivare a Rita ho fatto la ricostruzione della tridimensionalità del capezzolo, per cui è stata fatta la tridimensionalità, ma rimaneva muto, nel senso che era bianco, per cui aveva la colore della pelle. E certo non è finito, ti vedi come qualcosa di incompleto. Non sapevo dove sarei, nel senso mi hanno detto deve trovare qualcuno che si faccia questa dermopigmentazione. Per me è stato un po' un panico, sono arrivata a casa arrabbiata, perché non avevo un posto dove andare, dove potevo rivolgermi, da chi rivolgermi. Allora vabbè, ho detto va bene, come tutte le cose ci si rimbocca le maniche, si guarda, ho fatto una ricerca su internet, per caso ho trovato un articolo di un giornale che intervistava Rita Molinaro e faceva questa cosa con la Lilt di Treviso. Poi alla fine sono arrivata da lei ed è ricominciata la vita normale, in un certo senso. Professor De Vita, si parla sempre di prevenzione, lei cosa ne pensa e che consigli può dare alle donne? Allora, innanzitutto, c'è un'unica cosa che mi preme dire. Questo termine è un termine che secondo me è mal posto, perché quando una paziente parla di prevenzione, la prevenzione ha insito il concetto che se io prevengo non deve accadere nulla, mentre invece io non sto prevenendo, ma sto controllando, sto facendo una sorveglianza della situazione. Per cui la paziente ha detto, ma come è possibile, io mi sono sempre controllata e mi è venuto il tumore. Non è che facendo una radiografia o una mammografia si evita che arrivi il tumore, si fa una foto di quello che accade. Se noi vediamo una nostra foto oggi e la paragoniamo una di cinque anni fa, vedremo delle differenze, ahimè, purtroppo. e accade anche nel nostro corpo. Per cui noi andiamo a verificare se c'è qualcosa di modificato rispetto alla situazione che avevamo fotografato l'anno precedente. Quindi la sorveglianza consente di poter fare una diagnosi precoce e arrivare su una lesione molto piccola e quindi bisogna sottoporsi agli esami di ecografia e mammografia. Io qui vorrei spendere una parola per un signore immenso, che è Umberto Veronesi, il quale ha cambiato la vita delle donne. Il professor Veronesi, se invece del chirurgo avesse fatto il ricercatore, avrebbe sicuramente vinto il premio Nobel. Avrebbe ricevuto il premio Nobel perché è un signore che ha cambiato l'approccio a questa patologia. Oggi noi vediamo, grazie a lui, perché la quadrantectomia e l'infodosentinella, tutte metodiche tecniche che hanno portato ad essere sempre meno demolitivi, sempre più conservativi nel rispetto della radicalità oncologica, nel concetto di prevenzione. Considerate che l'Italia è il paese che ha la più alta sopravvivenza a cinque anni. Noi raggiungiamo il 90%. E questo, grazie a Umberto Veronesi. Grazie mille al professor Rodevita per le sue parole e per il suo lavoro così importante. Grazie a Elisabetta di essere stata con noi a raccontare la sua esperienza fondamentale per tutti e per tutti coloro che stanno combattendo questa malattia. Grazie, grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.